Ciao amici, ben giornata del nostro appuntamento quotidiano di allenamenti da fare a casa. Oggi vediamo un circuito glutei. Ne abbiamo già visto uno la scorsa settimana, ma non ne abbiamo diversi esercizi da poter alternare. Iniziamo. Il circuito di oggi restiamo a svolgerlo, o totalmente a corpo libero, o mettendo le visette di capiglie, come i miei, questi sono da un kg. Cominciamo a tendere la posizione di garconi, mani aperte alla coltura delle spalle, e da qui comincio, tesa gamba destra, sollevo 10 volte, cercando il più possibile di portare il piede all'altezza dell'anca. Dopo 10 sollevamenti, blocco 5 secondi, e vado dietro in diagonale, quindi non dritta per dritta dietro, ma qui, anca rotata, e sollevo 10. Dopo 10 in diagonale, blocco 5 secondi, e vado completamente dietro, tesa. Blocco 5 secondi, sempre proprio 10, e lo ripeto all'altezza di rosso, quindi diagonale, 10 e blocco, e laterale ancora 20, 10 e blocco. Tu distra, tesa laterale, 10 secondi, e 5 secondi, blocco. Blocco, e diagonale, blocco, e dietro, sempre 10, e blocco, al contrario, diagonale, 10, e blocco, laterale, 10, e blocco. Da qui, vado pancia sotto, mani avanti, gambe belle tese, ruoto i palloni verso l'interno, e le punte dei piedi verso l'interno, e da qui sollevo le gambe leggermente. Di questi le facciamo 15. Dopo 15, mi giro, e ripeto tutto. Dopo 13 esercizio precedente, torniamo a terra, caccapponi, e iniziamo tutti i laterali con la capa destra, 20, alzate la laterale piegata. Sempre il ginocchio all'altozza dell'altra. Dopo 20, alzate la laterale piegata, 20 con il calcio. Dopo 20, con il calcio, vado a terra, tutto il fianco, sinistro, completamente a terra, il braccio destro avanti, non puoi rimanere in equilibrio, piede destro a martello, e il salvo. 20. Dopo 20, che ti versi a martello, il salvo, vado a terra, sinistro, mano sul fianco, e da qui sollevo il fianco, e divario le ginocchia. 1, 2, di questi le facciamo 10, 3, 4, mi stringo ogni volta bene le due, e divario le ginocchia. A terra, mi giro, torno a capponi, e vado tutto con la barba a sinistra. Quindi, prima alzate le dalle, laterale, poi 20, poi venti, non in calcio. Poi vado completamente a terra, questa volta a fianco, destro, a terra, piede a martello, sinistro, e sulle. 20. Dopo 20, di questi, abbraccio a terra, mano sul fianco, e divario le ginocchia, e pergo sul fianco. 10. Dopo che siete questi, mi regiro e ripeto tutto per 3 serie. Anche oggi abbiamo questi due circuiti per i due, e c'è uno da ripetere per 3 serie. Fatemi sapere come li trovate. Prima del primo circuito riscaldatevi sempre bene, quindi o corsetta sul posto, o saltendo con la corda. Invece, terminato il secondo circuito, possiamo indicare il partito dell'allenamento allo stretching. Quindi, guardate i posti precedenti con gli esercizi, perché lo stretching è molto importante. Fatemi sapere, ragazzi, vi state allenando, sono contentissima. State condividate un sacco, continuate a farlo, perché io sto preparando i brevi, che verranno spediti, perché non è di Roma, e verranno consegnati, non appena ci sarà possibile, qui a Roma. Quindi, grazie ragazzi, continuate così, fatevi sapere se volete degli allenamenti in particolare, che li condividerò. Un abbraccio!